Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. In un episodio mozzafiato del popolare quiz televisivo L'Eredità, trasmesso il 14 gennaio 2024, Il campione Daniele ha catturato l'attenzione del pubblico con una performance da record, vincendo 190.000 euro. Questo incredibile successo lo ha portato a un totale di 285.000 euro in gettoni d'oro. Tuttavia, il climax della serata si è raggiunto quando Daniele ha rivelato al conduttore Marco di sentirsi particolarmente agitato. «Mi gira la testa, mi trema tutto», ha confessato il campione, lasciando il pubblico e il conduttore in un misto di preoccupazione e attesa. Marco, vedendo il concorrente in stato di evidente agitazione, ha indagato sulle sue emozioni. Daniele ha risposto che persino le vene ai polsi gli tremavano, un segno della tensione palpabile causata dalla possibilità di vincere una somma così considerevole. Con la sua ultima vittoria di 190.000 euro, Daniele ha portato il suo monte premi totale a quasi 300.000 euro, una cifra da capogiro che giustifica pienamente l'emozione e la tensione vissute dal concorrente. Nel mezzo di questa situazione di alta tensione, Daniele ha scherzato. «Se mi inginocchio adesso non mi rialzo più». I festeggiamenti sono proseguiti con le professoresse Michelle Masullo e Naomi Buonomo, che hanno stappato una bottiglia di spumante. Tuttavia, con una spontaneità che ha aggiunto un tocco di umanità al momento, Daniele ha ammesso «non fate versare a me lo spumante, altrimenti lo verso a terra». Mi gira la testa. Questa scena ha offerto un finale esaltante, sottolineando sia il trionfo che la naturale umanità del campione sotto i riflettori. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.